Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Oggi vi mostro i miei sassolini colorati che uso per decorare la superficie dei vasi delle mie piante. Questi sassolini sono facili da trovare, li potete trovare anche da Arcaplanet nel reparto acquario o altrimenti da casa o semplicemente nei negozi dei cinesi, sempre dalla parte della pesca o degli acquari. Questa invece è sabbia colorata che uso per decorare i bicchieri o i vasetti in vetro, per non far vedere la terra e rimangono anche esteticamente molto più carini. Questi sono alcuni esempi di vasetti che ho fatto. Spero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio per la visione e alla prossima! Ciao ciao!